Sono iniziate lunedì le ispezioni dell'ATS sulle 97 strutture sociosanitarie della provincia di Pavia. L'Agenzia di tutela della salute ha avviato un programma per monitorare il rispetto delle norme regionali sul coronavirus. I controlli serviranno a verificare tra l'altro la regolamentazione di ingressi e rientri in relazione a possibili casi positivi, l'igienizzazione, l'uso adeguato di mascherine, guanti e camici e l'adozione di piani specifici in caso di emergenze sanitarie, ma anche le modalità di gestione delle salme e degli accessi alle camere mortuarie. Le residenze sanitarie assistenziali sul territorio provinciale sono 85, quelle per disabili 12, per un totale di circa 6.000 ospiti. ATS Pavia, sottolinea il direttore generale Marazzi, si è attivata fin da subito per garantire una ripartenza in massima sicurezza, offrendo supporto alla cittadinanza, con particolare attenzione alla fascia più fragile della popolazione. L'obiettivo è di garantire una soluzione sicura nella gestione di anziani, malati e disabili, prendersi carico della salute del territorio, significa in questo caso organizzare le strutture con protocolli di emergenza, approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale, organizzazione dei locali, gestione dei nuovi ospiti e un sistema di monitoraggio. È fondamentale, conclude ATSI, ripristinare la possibilità di nuovi ingressi negli istituti, in totale sicurezza e con l'obiettivo di essere di sostegno agli operatori e agli utenti.